Ciao, benvenuti da Valeria. Una notizia. Avatar sarà come il padrino. Parola di James Cameron. Dopo il video. È venerdì 13. Non è niente da dirmi. Zucchi zucchi boink boink! Zucchi zucchi boink boink! Ma basta! È chiuso! È il mio quarantesimo compleanno! Tanti auguri a te! Tanti auguri! Almeno tu l'hai ricordato. La polizia sta investigando sulla morte di Will Wilder. Wilder viaggiava in autostrada con sua mano a folle velocità. Le nostre sincere condoglianze alla famiglia. No, 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 no! È il sogno di tutti andare al proprio funerale. Quante persone ne hanno la possibilità? Hanno dimenticato il mio compleanno. Per loro non esisto. Eppure mia figlia ricorda tutto. Sempre. Posso esprimere mie condoglianze? Mio nome è DJ. Will mi ha parlato di lei. A Will! Forse Will è ancora con noi. Forse lui più vicino di quanto noi pensiamo. Vuole fare l'amore con me? Nel negozio? Negozio? No! No nel negozio. È normale quando le persone sono in lutto. Qualcuno muore e qualcun altro ha bisogno di sentirsi vivo. Beh, possiamo? Musate che ti ho io! Che cosa vuol dire? Non ho coraggio di dirlo. Ma è una cosa perversa. Molto perversa. Lui è così dolce. Lui è così attravenente. Mi sta tradendo. Con te. Ho sentito che gli indiani sono amanti focosi. La madre come primo piatto e la figlia come dessert. Lui non ti meritava! Era un egoista! Non era un egoista! Lui era un egocentrico! Quale differenza? Più che almeno lo possa! Non chiamarmi più Will. Oh, è come dovrei chiamarti. BJ? BJ. Allora, James Cameron ha dichiarato che le riprese dei nuovi Avatar saranno in Nuova Zelanda. I tre film verranno girati nell'arco di un solo anno a partire dall'inizio del 2014. Però, Cameron ha svelato anche nuovi dettagli in merito. Cioè, nei sequel la storia andrà avanti. Racconteremo l'evoluzione degli Avatar che creeranno a Pandora delle famiglie estese. Cameron suggerisce di pensare a una saga familiare come il padrino. Cosa avrà voluto dire? Vabbè, che paragone. Vabbè, quello che è certo è che uno dei nuovi protagonisti sarà proprio l'Oceano. Il secondo film, infatti, potrebbe svolgersi sott'acqua. Quindi una grande novità. Le uscite in sala previste per questi tre film saranno dicembre 2016, 2017 e 2018. Per oggi è tutto. Noi ci rivediamo al prossimo video. Nel frattempo iscrivetevi, se non l'avete ancora fatto, al nostro canale YouTube. Così restate sempre, sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Noi ci vediamo al prossimo video.